Gabriele Strefezza, la Spalli ripartita dopo la settimana di sosta di campionato, quanto è stato importante per voi chiudere l'intenso ciclo di gare tra dicembre e inizio di gennaio con la vittoria a Frosinone? È stato bello chiudere così perché ci mancava questa vittoria dopo con le sconfitte contro Brescia e Ascoli, quindi era quello che volevamo chiudere così, quello ciclo a dicembre e gennaio con una bella vittoria, quindi è arrivata questa bella vittoria contro Frosinone, adesso pensiamo già a Sassuoli dopo il campionato contro la Reggiana. Qual è stata secondo te la chiave del successo della gara di lunedì scorso? È stato il gruppo, quello che sono entrato pure in campo dopo, hanno fatto la sua parte, quindi il gruppo è forte, sono giocatori importanti e questo è fondamentale per il gruppo, che è un gruppo forte. Gabriele, conoscevi già la Serie B per via della tua esperienza a Cremona di due stagioni fa, in particolare che idea ti sei fatto del campionato di quest'anno che soprattutto nella parte alta di classifica vede molte squadre nel giro di pochi punti? È un campionato difficile con tutte le squadre che sappiano giocare a calcio, è un campionato difficile. Questo anno qua penso che è il campionato più difficile della Serie B, perché ci sono tante squadre forti, questo anno è un bello campionato della Serie B e puntiamo in alto, puntiamo di arrivare in Serie A, questo che puntiamo. Fino a questo momento della stagione sei andato a segno due volte, nella terza giornata contro il Pordenone e nella quattordicesima contro il Lecce. Due gol, uno più bello dell'altro, dove hai sfoderato delle grandissime conclusioni. E proprio da questo punto di vista senti di aver fatto dei miglioramenti? Sì, io lavoro tutti i giorni, dopo allenamento mi fermo per cacciare in porta, per sempre migliorare e questo sto migliorando pure in partita. Adesso ho fatto due gol, quindi voglio fare altri gol, quindi mi alleno tutti i giorni, pure dopo allenamento mi alleno sempre e tiro in porta, quindi voglio che arrivano più gol. Gabriel, passiamo ora alle domande che ci sono arrivate per te dai tifosi attraverso i nostri profili social. Ritornando proprio ad uno dei tuoi gol in questo campionato, Michele ti chiede cosa hai pensato dopo aver segnato il gol contro il Lecce? È stata una emozione bellissima, perché dopo una partita prima sono stato espulso e una partita dopo ho fatto il gol della vittoria, quindi per me è stata una emozione bellissima. Avevo tanta rabbia dentro di me per fare un gol, quindi è arrivato al momento giusto e dopo pure la vittoria. Quindi per me è stato bellissimo. Con la domanda di Guido ritorniamo alle tue origini. Guido ti chiede come è nata la tua passione per il calcio. Raccontaci un po', Gabriel, come sono stati i tuoi inizi in Brasile? Io ho iniziato da piccolino, da 7-6 anni ho iniziato a giocare a calcio, sulla scuola a calcio che mi portava sempre il mio nono, però dopo con 9 anni mi sono andato al Corinthians e da lì ho preso il suo serio. Quindi ho iniziato a giocare al Corinthians perché è una grande squadra in Brasile e da lì ho iniziato a prendere il suo serio e dopo da lì sono diventato un calciatore. Giuseppe invece ti chiede a quale giocatore ti sei ispirato nel corso della tua carriera? Io guardo sempre Cristiano Ronaldo perché è un'ispirazione, penso, quasi per tutti perché si allena sempre, si fa sempre le cose giuste. Quindi per me anche da piccolo guardavo sempre lui e pure adesso, l'anno scorso quando ho giocato contro è stata un'emozione giocare contro di lui. Quindi per me è Cristiano Ronaldo. Gabriel, si ritornerà in campo giovedì per la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo. Un appuntamento molto importante che siete riusciti a raggiungere dopo un ottimo percorso in questa competizione. Sì, vogliamo andare più avanti possibile e adesso abbiamo una bella partita contro il Sassuolo che è una squadra da Serie A. Vogliamo giocare a pari contro di loro e proviamo ad andare lì a vincere, questo è quello che vogliamo. Dopo il Sassuolo invece ci sarà la Reggiana in campionato lunedì prossimo al Paolo Mazza. Che partita sarà secondo te? È una partita difficile come tutte le altre. Pensiamo prima a Sassuolo e dopo pensiamo alla Reggiana in casa. Però stiamo allenando bene, abbiamo partito bene all'allenamento, quindi pensiamo partita dopo partita.